Sarà la città di Sulmona ad ospitare quest'anno per la provincia dell'Aquila la giornata nazionale dello sport indetta dal Coni. Appuntamento come da tradizione per la prima domenica di giugno, teatro dell'evento, saranno gli impianti dell'incoronata con la pista di atletica leggera e il campo di rugby, due strutture gestite da privati che rappresentano un fiore all'occhiello per il capologo Peligno. Lo scopo, afferma il fiduciario Coni, Mimo Carrozza, è quello di sensibilizzare i cittadini a praticare lo sport e a promuovere le discipline coinvolte con attività adeguate per poter incrementare sempre di più la massa degli sportivi. La manifestazione, rivolta prevalentemente alle fasce giovanili, offre l'occasione ad atleti, amatori e sportivi di tutta l'età, di cimentarsi in gare non competitive di diverse discipline perché il Coni intende far ristaurare in ogni cittadino la cultura dello sport come costume di vita. Verranno praticate le attività dell'atletica leggera, del rugby educativo, della scherma, del ciclismo, delle arti marziali e del calcio su spazi di dimensione ridotta. Hanno aderito le società Olimpia Cedas, Peligna Sulmona Rugby, Amatori Atletica Serafini, Ginnasium Scherma Club Sulmona, la sezione ciclismo del dopolavoro ferroviario di Sulmona e la SD di Sabili Sulmona. Il Coni, conclude Carrozza, consegnerà ad ogni partecipante una t-shirt in ricordo della giornata trascorsa in un ambiente naturale con un'attività motoria a carattere polivalente che farà conoscere a ciascuno le qualità fisiche di cui è in possesso e la disciplina sportiva per cui è maggiormente evocato. La giornata nazionale dello sport celebrerà domenica 3 giugno la quindicesima edizione che partirà alle 9.30 per concludersi alle 13.00. Sarà presente il delegato provinciale del Coni, Luciano Perazza.